Salve, la color correction primaria si fa intervenendo sul frame nella sua globalità. Al contrario la color correction secondaria si concentra su piccole zone e o piccoli intervalli di colore. Regolare il contrasto fa parte della color correction primaria. Ogni immagine digitale può essere divisa in due parti, la luminosità o luma in inglese, e i colori, croma. Il contrasto riguarda l'intervallo dei valori di luminosità che è la parte più importante dell'immagine. Si può sempre convertire un'immagine a colori in una in bianco e nero. Ci sono diversi modi per ottenerla. Il modo standard di calcolare i valori di luminosità di una immagine RGB dovuta all'ente CE è sommare il 21% del valore del rosso al 72% del valore del verde e al 7% del valore del blu. Il risultato è il valore del luma di un singolo pixel, in bianco e nero in questo caso. Ma ci sono altre formule comunque. Il contrasto è definito come la differenza fra il valore più alto di luma e il valore più basso. Quindi se le ombre sono nere assoluti e le alte luci sono bianchi puri, avremo il massimo contrasto. Se invece nell'immagine dominano piccole variazioni di grigi senza la presenza di ombre profonde o alte luci, il contrasto risulterà minore. Se prendiamo un gradiente che va dal nero al bianco sfumando attraverso tutti i possibili grigi, un'immagine contrastata avrà un intervallo più ampio di un'immagine poco contrastata. Perché è importante controllare il contrasto? Massimizzarlo significa rendere l'immagine più vivida, facile da leggere e bella da vedere. Non è stare attenti però a non esagerare, perché si va a influire anche sui colori. Il contrasto si usa anche per bilanciare i vari shot rendendoli omogenei fra di loro, oppure al contrario per far sembrare degli shot girati contemporaneamente come se fossero riprese in diversi momenti della giornata, quindi con luci diverse. Se giriamo in log, che hanno la caratteristica di essere particolarmente bassi di contrasto, e anche di saturazione se è per questo, espandere il contrasto serve a normalizzare, cioè a riportare il file in lineare, in modo che sia più corretto alla vista. Altri usi riguardano il portare le alte luci entro i limiti legali, cioè entro i valori specifici richiesti, oppure far diventare le ombre più profonde, schiarire immagini sottoesposte e aumentare la definizione. Mi sembrano tanti usi, vero? E tutti importanti. Più avanti faremo degli esempi chiarificatori. Il contrasto vale dal 0% al 100%, ma può accadere di avere il super bianco, con valori fra 101 e 110%. Anche se il video su cui lavoriamo ha il super bianco, non è detto e non riusciamo a vederlo e a usarlo durante la correzione. Dipende se il software che usiamo lo blocca, clipping, al valore 100. Quando regoliamo il contrasto, dobbiamo per forza fare affidamento sul monitor usato, anch'esso in genere piuttosto limitato. Ci sono anche altri fattori che possono influire sul modo con cui percepiamo il contrasto, non ultimo la nostra vista. Per trovare affidabilità in questo mare di soggettività, dobbiamo ricorrere ai video scoops. In particolare al waveform, oppure all'istogramma. Questi strumenti di monitoraggio permettono di avere un'idea precisa di tre importanti parametri che formano il contrasto. Il punto del nero, che rappresenta la parte più buia dell'immagine. Il punto del bianco, che rappresenta la parte più luminosa. E i mezzi toni, che rappresentano la luminosità globale percepita dell'intera immagine. Qualunque tipo di modifica del contrasto si basa su questi tre valori, quindi cercate di tenerlo bene a mente. Per conoscere meglio questi strumenti, useremo dei test color che danno risultati immediatamente riconoscibili. FFmpeg fornisce assine l'erra molti plug-in di test, che noi sfrutteremo. L'instagramma reporta il valore di luma di ogni singolo pixel. Sull'asse X c'è una generica scala che rappresenta l'estensione di valori di luminosità, da 0 a 255 nel caso di immagini RGB a 8 bit, oppure in percentuale da 0% al 100%, o addirittura al 110% se comprende anche il superbianco. Lungo l'asse Y sono riportati il numero di pixel che hanno il corrispondente valore di luma. Quello che viene fuori è una rappresentazione precisa e facile da leggere. La larghezza totale dell'insieme di linee rappresenta il contrasto e può essere più o meno largo. L'estensione verticale ci indica il tono generale dell'immagine. Se il grosso delle linee è sulla parte sinistra, con al limite dei valori clippati, si ha sottoesposizione. Al contrario, se si hanno più linee nella parte destra, si ha sovraesposizione. Infine, se si ha una buona larghezza accompagnata da una buona distribuzione dei grigi, si ha un'immagine ben esposta. Comunque, ricordate sempre, il contrasto è solo l'estensione sull'asse X. In un'immagine a basso contrasto la larghezza dell'istogramma è minore dell'intervallo massimo 0-100% e quindi il punto del bianco e del nero non sono, rispettivamente, sul valore 100 e sul valore 0. La condizione ideale, ma si dovrebbe distinguere da immagine a immagine, sarebbero valori del nero vicini a 0, ma senza clipping. e valori del bianco vicini a 100, ma sempre senza clipping, a meno che non si riesca a sfruttare il superbianco. In un'immagine a basso contrasto con il punto del bianco a 75 e il punto del nero a 25, e quindi con un'estensione globale di solo il 50%, è facile espandere l'intervallo imponendo al punto del nero il valore 0 con la freccia nera e il punto del bianco il valore 100 con la freccia bianca. In alcuni programmi si può intervenire anche sui mezzi toni impostando la freccia mediana grigia, ma non in Sinellerra che non la possiede. L'effetto è immediatamente visibile sull'istogramma. Questo è un modo grezzo di modificare il contrasto perché non permette molta modulazione e quindi risultati sofisticati, ma di sicuro è il metodo più veloce. In ogni caso si può usare l'istogramma solo come graffio di visualizzazione e intervenire sul contrasto con altri strumenti, per esempio le curve. Come semplice monitor di visualizzazione è ancora meglio usare il waveform, che è uno dei videoscopes insieme a RGB Parade e al Vectorscope. Il waveform riporta il valore di luma in termini di IRE o di millivolt nell'asse Y, mentre nell'asse X c'è la coordinata dell'immagine. A sinistra ci sono i pixel a sinistra dell'immagine e si scorre via via per tutta l'estensione fino agli ultimi pixel sulla destra. In questo modo abbiamo l'aggancio dei valori di luma alle varie parti dell'immagine per un controllo più preciso e circoscritto. Quindi in questo caso il contrasto non è rappresentato dalla larghezza dell'intervallo, bensì dall'altezza. Una prima conseguenza è la maggiore comodità nel visualizzare le ombre profonde, le alte luci e soprattutto i mezzi toni. Inoltre facendo clic con il mouse compare una linea che facilita l'ispezione del waveform ed in più compaiono le coordinate numeriche per una valutazione ancora più precisa. Ma contrariamente all'istogramma che possiede dei mezzi rudimentali per variare il contrasto, il waveform è solo un monitor e ha bisogno di altri strumenti per modificare i valori di luma. Un tool molto usato è Color Treeway più propriamente chiamato Lift Gamma Gain o anche Shadow Midtones e Height Lights. In realtà ci sarebbe differenza fra Lift Gamma Gain e ombre, mezzi toni e alte luci. Il primo ha dei confini abbastanza netti fra le zone delle ombre, dei mezzi toni e delle alte luci. Questo permette maggior controllo e precisione ed è quindi il più usato, a meno che non facciamo modifiche troppo grosse. In questi casi l'influenza reciprofa è inevitabile. Ombre, mezzi toni e alte luci invece non ha confini netti ma leggermente sovrapposti che porta a risultati meno controllati ma più graduali e piacevoli. Controllate il vostro programma quale tipo adotta? Scenerella Infinity usa ombre, mezzi toni e alte luci. In questo video non vedremo la ruota dei colori solo la sottostante barra di scorrimento o slider che riguarda i valori value di luminosità. Variando le ombre si varia la luminosità delle parti scure lasciando relativamente invariati i mezzi toni e le alte luci. A meno che non facciamo interventi di grande portata in questi casi è difficile non modificare anche le altre zone come pure i colori. Variando le alte luci si variano i valori delle parti chiare in genere abbassandole perché aumentandole oltre il 100% si ha clipping o si va nel super bianco. Infine i mezzi toni alterano la luminosità globale dell'immagine e non sono quindi da trascurare. Con questo tool si possono fare regolazioni piuttosto precise e potendo discriminare le tre zone importanti dell'immagine si influisce in modo definitivo sul contrasto. Insomma, basta questo strumento nella maggior parte delle correzioni che possono capitare. Programmi di grading professionali usano una terza ruota chiamata Offset o meglio Master Offset per distinguerla dal Color Offset che vedremo nei video successivi. Questa serve a traslare globalmente le tre zone di luminosità quindi se si aumenta il Master Offset si aumentano contemporaneamente e della stessa quantità le ombre mezzi toni e le alte luci. Serve in casi particolari e se ne può fare a meno. Magari può essere usata come primo passo per stabilire globalmente il livello massimo o minimo del waveform e poi procedere con aggiustamenti più puntuali. Il suo uso più importante è preparare un file log per la successiva linearizzazione tramite LUT o correzione gamma. Ma non affronterò l'argomento in questi video perché ne ho accennato nella serie sulle immagini digitali sempre nel mio canale. Sinellerra non ha questa quarta ruota però ha il plugin Brightness Contrast con due slider. Quello della luminosità corrisponde esattamente alla rotella Master Offset. Lo slider del contrasto corrisponde a triangolini dell'histogramma che abbiamo già visto prima. Lo strumento in assoluto più potente sono però le curve in se nelle RGG sono integrate nello strumento histogramma in modo da offrire un'unica finestra su cui vedere contemporaneamente il grafio dell'histogramma e le curve su cui agiamo. Le curve ci sono però nel canale RGB e ce n'è una quarta curva chiamata Master che vale le tre curve contemporaneamente ed è quindi equivalente all'UMA In questo video useremo solo il Master L'histogramma di Bézier ha tre modalità di agire sulla curva lineare simile come i risultati a Color 3 Way polinomiale e Bézier Queste ultime due hanno punti di controllo con relative maniglie e permettono di ottenere curve molto precise limitandole a zone ristrette a piacere e con modulazioni molto sofisticate Per ottenere il massimo però bisogna essere molto abili e accumulare esperienza Insomma non è il mio caso In partenza abbiamo una linea retta obliqua che parte dal punto del nero e si alza fino al punto del bianco Questa è una curva neutra che non produce variazioni Infatti al valore di input asse delle x o della sorgente corrisponde lo stesso esatto valore dell'output asse delle y o dei valori modificati In genere le curve si usano introducendo tre punti fissi uno al confine fra ombre e mezzi toni uno al centro dei mezzi toni e uno al confine fra mezzi toni e alte luci Possiamo ora introdurre altri punti e variarli a piacere per ottenere il risultato cercato In questo modo la variazione in una zona non influisce sulle altre proprio a causa dei punti fissi che avevamo messo in precedenza In genere per aumentare il contrasto si introduce una curva ad S che abbassa le ombre senza però toccare il punto del nero per non avere clipping e alza le alte luci anche qui senza toccare il punto del bianco Però forma e spostamento possono variare molto per ottenere effetti diversi adatti a ogni tipo di immagine I punti si creano semplicemente cliccando nel tasto sinistro del mouse e poi trascinando nella posizione voluta Più punti introduciamo e più possibilità abbiamo di ottenere curve complesse e risultati sofisticati Per eliminare un punto basta farci clic con il destro Passiamo adesso ad esaminare qualche esempio pratico per esempio espandere il contrasto Come già sappiamo il contrasto si aumenta abbassando le ombre aumentando le alte luci e regolando i mezzi toni a gusto o secondo lo scopo che vogliamo ottenere La procedura è semplice si esamina l'immagine nella waveform e si tiene conto dei valori numerici delle varie parti Trattandosi di un filmato dobbiamo scorrere e esaminare la waveform l'intero filmato Si regolano le ombre con color 3-way oppure con le curve Se non c'è necessità di lavorare di fino color 3-way è certamente più pratico e veloce Non dobbiamo arrivare allo zero ire ma fermarci a circa il 5% questo per non eliminare i dettagli presenti nelle ombre rendendoli neri puri Naturalmente se l'immagine lo permette perché se sa ogni immagine fa storia a sé Abbassando le ombre diamo profondità si dice anche solidità alle zone scure Altro passo è aumentare le alte luci fino a toccare il 100% Non è importante perdere dettagli nel bianco puro perché l'occhio umano non riesce a distinguere già ad altri valori di ire Avere parti di bianco saturo donano energia alle immagini creando un contrasto bello a vedersi Ultimo passo bisogna regolare i mezzi toni se ce n'è bisogno per determinare la luminosità generale dell'immagine questo va a gusto o a indicazioni ricevute ma è sempre utile osservare il risultato sul waveform Quando si fanno grossi interventi di aumento del contrasto bisogna tenere conto anche dei limiti del monitor che usiamo e di altri problemi di visione potrebbe accadere rifare regolazioni che poi non risultano adatte al risultato finale Altro esempio comprimere il contrasto Analogamente all'esempio precedente si può anche diminuire il contrasto La procedura è simile Esaminare il waveform se abbiamo troppi bianchi clippati siamo nel caso di sovraesposizione e possiamo fare solo piccoli interventi poco risolutivi Se abbiamo tanti neri clippati si tratta di sottoesposizione e qualcosa si può fare ma non aspettatevi miracoli è comunque meglio della sovraesposizione Si inizia abbassando le alte luci Poi si aumentano le ombre ma non troppo per impastare i toni scuri con la comparsa di rumore e di bending cose che rovinano l'immagine e che è bene ridurre il più possibile Come ultima fase si possono regolare i mezzi toni ma molto spesso non ce n'è bisogno nei casi di sottoesposizione Ancora un esempio sul come regolare i mezzi toni I mezzi toni occupano la grande parte dell'immagine per cui sono i più importanti per determinare l'aspetto globale dell'immagine Giocando con i mezzi toni si può dare l'idea dell'ora del giorno o se siamo in un interno ad un esterno possiamo mettere in risalto certi dettagli oppure al contrario rendere meno evidenti altri dettagli Insomma sono importanti per il look generale del nostro video Quando regoliamo i mezzi toni specialmente in caso di grosse variazioni è facile modificare anche le ombre e le alte luci quindi attenzione Torniamo pure a intervenire sugli estremi se necessario L'immagine che mostro è gelata in un interno illuminato da una finestra con luce di mezzo pomeriggio Per dare un'atmosfera da mezzogiorno alzare abbastanza i mezzi toni e abbassare un poco le ombre per compensare il loro innalzamento Per dare un'atmosfera di pomeriggio inoltrato abbassare abbastanza i mezzi toni e contemporaneamente abbassare di poco le ombre e alzare di poco le alte luci Comunque visto il regolare mezzi toni influenza tanti dettagli conviene usare le curve al posto di color treeway in modo da lavorare con precisione su parti ristrette dell'immagine Vediamo ora il caso di come trattare le sottoesposizioni In un'immagine sottoesposta molti neri sono clippati e quindi non possiamo rimediare alla perdita di dati Se si alza il punto del nero otterremo che chiazze di nero puro diventano le stesse chiazze ma di grigio Non compaiono dettagli che non ci sono Oltretutto compare il nemico comune della color correction il rumore Quindi si può intervenire solo in piccola misura per migliorare la scena ma non per risolvere il problema Problema che oltretutto è incrementato in video 8 bit e 420 Magari su un monitor che supporta solo sRGB La procedura è la seguente Osservare attentamente le waveform Strano no? Non l'ho mai detto finora Aumentare le alte luci e i mezzi toni e abbassare le ombre in modo da compensare il loro innalzamento Meglio usare le curve per lavorare di dettaglio Continuare a lavorare sul mezzitone per ottenere un'immagine buona secondo i nostri gusti Accettare l'idea che le alte luci e le ombre profonde resteranno clippate e lavorando in modo da farle diventare punti di forza invece di debolezze per esempio risaltare i riflessi dei lampioni o delle cromature delle macchine con un filtro glove oppure usare grandi ombre nere per creare un'atmosfera e così via Infine usare un denoise se proprio non possiamo farne a meno vediamo invece come trattare la sovraesposizione è ancora più critica della sottoesposizione abbassare le alte luci crea chiazze di grigio al posto di chiazze bianche con un effetto molto peggiore delle chiazze grigie nei rastre della sottoesposizione Spesso la cosa migliore da fare è renderle un fattore di forza all'interno delle immagini per esempio scegliere di mantenere una finestra bianca e senza dettagli per privilegiare l'interno In casi particolari si può ricorrere alle maschere su zone clippate e poi colorarle manualmente come vedremo nei successivi video o anche dare un effetto di luminescenza ai riflessi specolari per renderli più accattivanti oppure ancora ricorrere alla tecnica della ricostruzione di un canale clippato con channel mixer ma per questo esempio dovrete ricorrere al libro di Van Yurkman perché è davvero troppo avanzato per me Comunque questo esempio di campo innevato mi piace così con i suoi bianchi clippati in forte contrasto con le ombre profonde Bene siamo arrivati alla fine nel prossimo video parleremo di correzione primaria dei colori di correzione primaria di correzione primaria